Allora Francesco Conci, tecnico di Trento, dopo il passaggio alla seconda fase, la vittoria del girone di qualificazione, ci si gioca il terzo posto. Oggi dopo due sconfitte con due belle squadre come Castellana Grotte e Lube. Sì, il nostro obiettivo prima di partire era quello di riuscire a qualificarci per la seconda fase e siamo riusciti a centrarlo. Abbiamo poi avuto la sfortuna di essere inseriti forse in quello che è il girone più difficile di tutti e quattro, con due squadre quotate come Macerata e Castellana che abbiamo affrontato fra l'altro in sequenza nella prima e nella seconda partita. C'è un pochino di rammarico perché forse avremmo potuto raccogliere qualcosina in più, sia ieri con Macerata, un 7-20, una 22, anche oggi due 7-23, ma non giocando la nostra migliore pallavolo. Quindi abbiamo perso con 2-3-0, forse un po' troppo severi, ma con qualche rimpianto per non aver espresso un gioco esaltante con diverse imprecisioni. Adesso l'obiettivo deve essere quello di concentrarci sulla partita di oggi pomeriggio perché fra noi e Napoli sarà una sorta di spareggio. Ci possiamo dare adesso come ultimo obiettivo quello di provare a finire fra le prime 10, che vuol dire arrivare terzi nel girone battendo Napoli e poi giocarsi un posto dal nonno al dodicesimo. Però credo che per noi, dopo una stagione un po' travagliata con questo gruppo, riuscire a entrare fra le prime 10 squadre d'Italia sarebbe un ottimo risultato. Grazie.